Leonardo Silva Revisorevole Fotografia Ho fatto delle foto. Ho fotografato invece di parlare. Ho fotografato per non dimenticare. Per non smettere di guardare. Così ha scritto Daniel Pennac. E forse è anche quello che dovrei fare io stasera. Non parlarvi. Semplicemente mostrarvi delle fotografie. Perché è in questo che risiede quel genio, il noema specifico di cui ci parlava già Roland Barthes. Quella capacità unica che la fotografia ha di essere specchio e testimonianza della realtà al tempo stesso superandola. È già iscritto nella sua etimologia questa potenza di rottura. Scrivere con la luce. Luce e tempo. La fotografia ha due genitori molto illustri. Da un lato l'ottica, dall'altro la chimica. È figlia dell'argento. Di quella materia viva che l'alchimia medievale considerava capace di intrappolare oggetti e persone, addirittura per sempre. Ma è anche figlia dell'uomo, come ha già avuto modo di constatare nel 1544 Leonardo da Vinci, guardando un'eclissi solare attraverso il foro stenopeico della sua camera obscura. Perché anche la prima fotografia che noi conosciamo della storia è proprio un punto di vista. è il point de vue du gras di Gnès Fornieps dal suo studio ai tetti di Parigi. Da dentro a fuori. E come ci dice anche Henri Cartier-Bresson, è in questa sintesi che risiede la fotografia. Nella dimensione dentro il fotografo che incontra quella esterna. È un punto d'incontro, un equilibrio, che si concretizza in un attimo. Questo legame con il suo referente è questo che fa della fotografia semioticamente parlando un indice. Il legame indiziale è quello che inserisce la fotografia nei segni come può essere l'orma. Quando noi facciamo un'orma sulla sabbia la leghiamo al nostro piede. Così la fotografia è legata, in qualche modo costretta, all'oggetto che rappresenta. Alcuni scrittori, pittori, hanno sempre ravvisato in questa sua natura un limite. Il limite è dato dal fatto che uno scrittore, un pittore, può raccontare quando vuole ciò che vuole, mentre il fotografo è costretto, in qualche modo, a quello che è adesso. Questo è vero. Ma soltanto per chi non sa vedere un'infinità di possibilità nel mondo che ci circonda. Perché non è la tecnica a definire il fotografo. Ciò che definisce un fotografo è il suo atteggiamento rispetto alla tecnica stessa. C'è un aneddoto di Simon Evans che ci racconta di un suo amico che a un certo punto va una sera a casa di una signora e porta delle foto, le mostra, la signora commenta «Bellissime! Deve avere una macchina fotografica eccellente!» Al momento del congedo, l'amico di Simon Evans si rivolge alla signora complimentandosi «Ottima cena! Deve avere delle pentole di ottima qualità!» Ma c'è di più. Di questa realtà la fotografia ha fatto il suo cavallo di battaglia. Perché mentre una parola deve sempre dimostrare, alla fotografia semplicemente crediamo e basta. Ecco allora che la fotografia diventa fotogiornalismo. Diventa lo strumento principale di rottura, denuncia, contestazione, rivoluzione, libertà. E da indice sposta il suo statuto a quello di icona. Perché non è più semplicemente il legame fisico con l'oggetto che rappresenta. Ne racconta anche il significato e la forma. Ne diventa il simbolo. E questo lo fa raccontando i grandi momenti della storia, quelli veramente di rottura, ma lo fa anche raccontando la quotidianità. La fotografia mostra al mondo intero che la mediocrità di fatto è solo apparente. questa è una fotografia di Martin Parr, per esempio, che ve lo racconta benissimo. Le fotografie che state vedendo adesso scorrere dietro di me sono tratte da una mia selezione della Special Print Sales, che è la Manium, una delle agenzie fotografiche più famose, ogni anno fa vendendo a prezzi ragionevoli delle foto del loro archivio. L'anno scorso era proprio dedicato al tema della libertà. E anche per me è stato lo stesso. Io ho trovato la libertà in questo modo. Ho cominciato a fotografare durante i lunghi viaggi insieme a mio padre. Lui scriveva e io, a 13 anni, ho provato ad impugnare questa macchina fotografica analogica a tentare più o meno di tenere gli orizzonti dritti. E in modo speciale, questa sera con voi, condivido quello che per me è stato il viaggio decisivo, fotograficamente e anche personalmente. Un viaggio a cavallo, attraversando la Mongolia, verso il confine con Tuva, verso questa popolazione, gli Satan, che sono allevatori di Ren, una popolazione nomadica. Abbiamo così preso i cavalli, attraversato l'infinità delle steppe mongole, ci siamo fermati come diritto ad ogni guerre, remota, perché lì la notizia viene portata umanamente, personalmente, sorseggiando tè salato, bevendo ai rag, incontrando gli sciamani. E poi, poco a poco, siamo saliti dalle Aghi Bianchi e siamo arrivati al campo base, il più remoto, perché nella stagione estiva si allontanano di più. Gli Satan erano decimati dalla febbre maltese, che era veicolata attraverso le renne e attraverso le pecore mongole. E noi abbiamo passato questo tempo con loro, semplicemente stando lì, vivendole. E con la mia macchina fotografica ho documentato l'aiuto comunitario che gli avevamo portato, quindi soldi, farina, zucchero, giornali, quaderni per i bambini. Questo è il regalo che ci hanno fatto in cambio, un cucciolo di renna bianca. Questo orizzonte mi è rimasto dai 13 anni per sempre dentro. E non ho mai smesso di viaggiare da allora. Ho continuato a viaggiare, ho continuato a fotografare. Come già vi anticipava anche Carlo, la mia dimensione preferita di viaggio è quella solitaria via terra. Questo perché mi permette di rompere il tempo di ogni giorno. Mi permette di arrivare, camminando dopo chilometri e chilometri, ad un momento in cui scatta qualcosa. C'è come un click in cui si diventa più percettivi nei confronti del mondo esterno. Ma non solo, anche nei confronti di se stessi. E però per capire profondamente questa esperienza io ho bisogno della fotografia. Perché la fotografia è un tempo che mi permette di fermarmi in qualche modo, di fermare dei dettagli, di leggere dei dettagli che altrimenti non avrei mai notato. Sarà capitato anche a voi di scattare una fotografia e poi notare delle cose che al momento non avevate nemmeno visto. La fotografia è un tempo che ha bisogno di tempo. Ma è anche perché il nostro pensiero passa dalla parola, se ci pensate. La fotografia ha un altro canale che è diverso. È quello non verbale. E allora questo canale non verbale diventa una possibilità fortissima per l'incontro. Per l'incontro anche con popoli che paradossalmente non parlano la tua lingua. Io ho girato abbastanza lungo l'Oriente perché è diventato il mio grande amore. che mi ha veramente affascinato dalla Russia, alla Cina, agli Stan, all'Indocina. Potete tranquillamente girarla senza necessariamente parlare la loro lingua. È utile qualche base di russo ai confini soprattutto degli Stan. però potete anche capire molto poco, per esempio, di Mandarino. La fotografia comunque ve lo permette. Nel frattempo però che cosa è successo? È successa una cosa importante. Dalla pellicola si è passata al digitale. Le prime foto degli Satan erano ancora in pellicola, poi tutte le altre che avete visto sono in digitale. E l'immagine si è svuotata, nel senso che il simulacro è diventato sempre più sintetico. È diventato sempre meno calco e sempre più simulacro della realtà. Questo significa centinaia di migliaia di foto condivise ogni secondo. Significa una possibilità effettivamente incredibile. C'è la possibilità di viaggiare senza nemmeno spostarsi. C'è la possibilità di informarsi senza leggere. Non chi ignora l'alfabeto, ma chi ignora la fotografia sarà l'analfabeto del futuro. Questa è una bella problematica a cui forse avremmo dovuto pensare un pochino prima, ma a cui sicuramente dobbiamo pensare adesso. Se solo guardate Instagram, capite quanto è un mezzo potente. Dal punto di vista della linguistica è incredibile, perché è un mezzo che riesce a parlare di immagine attraverso l'immagine, senza avere bisogno dell'apporto della parola. Quindi parla di per sé, non ha un filtro. Questo dovrebbe fare di Instagram, oltre alle due ragioni principali, ovvero aver messo dei filtri buoni per delle telecamere inizialmente cattive e avere una buona condivisione per gli altri social, uno strumento di liberazione per tutti quanti, un break free per tutti. Eppure qualcosa è andato storto. Meno che mai una semplice resa del reale dice qualcosa sulla realtà. E che cosa è successo? È successo che siamo sovraccarichi di immagini. Non capiamo nemmeno bene più forse come leggerle. sono troppe. Addirittura noi stessi ne facciamo troppe forse, visto che ce le dimentichiamo nella cassa del cellulare. E cosa è venuto a mancare? Il fatto è che l'omologazione, il confine fra l'omologazione e la libertà si è fatto sempre più sottile e ci ha messo un po' in una gabbia. E soprattutto si può fare un'immagine, ma una fotografia un po' diverso. è venuto a mancare quel punto di vista di cui abbiamo parlato fino a qui. La fotografia è stata scaricata di tutte quelle sue caratteristiche in potenza. E allora, ha senso ancora oggi essere fotografi? Professionisti? Ha senso fare una fotografia? quando l'immagine oramai dialoga con noi, con un rapporto del tutto diverso, con l'evento, il fatto, la conoscenza? Secondo me sì. Sì, perché sarebbe sciocco avere una tecnologia, come giustamente diceva anche Gabriele prima, a nostra disposizione per non usarla, per non sfruttarla, per non usarla al meglio. però deve un po' cambiare il rapporto che il fotografo invece ha con la fotografia, col proprio pubblico, col proprio lettore. L'ho fatto anch'io. Ho fatto una scelta diversa. Ho fatto questa scelta che vedete scorrere che è oggi un'associazione, ma di cui io sono diventata prima caporedattore. Witness Journal nasce nel 2007 come prima rivista di fotogiornalismo online da un progetto editoriale del fotografo e giornalista Amedeo Novelli. E poi si trasforma in un'associazione portata avanti da fotografi, fotografi che hanno una missione diversa, hanno una missione di fare cultura fotografica, di integrazione, socializzazione. È una contaminazione. È qualcosa che è stata aperta non solo ai fotografi professionisti, ma a professionalità diverse. Perché in realtà quello che conta è raccontare le storie, quelle importanti, ma anche quelle del quotidiano. Perché noi siamo convinti che comunque la voce del quotidiano, che altrimenti viene fuori attraverso i social, sia un momento veramente importante e sia anche la costruzione sia un momento eccezionale da seguire. E allora essere fotoreporter oggi in un paradigma che è complesso, è liquido, è stratificato e tecnologicamente avanzato significa ancora di più essere capaci di far vedere e intravedere il futuro. non si fotografa con la meccanica, si fotografa con l'occhio del cuore. E con una buona fotografia noi lettori possiamo sapere chi siamo e forse anche chi saremo. Grazie. 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 Applausi. Grazie. 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 Applausi. Grazie. 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 Grazie.